Dal città di Scordia al Caltagirone. Il Gela Football Club cambia ancora pelle, rinuncia al torneo di eccellenza e riparte dal campionato di promozione. Chiuso l'accordo per il trasferimento a Gela del titolo sportivo dalle SD a Caltagirone, seppur a malincuore il club giallonero ha dovuto rinunciare all'eccellenza. Il riscatto del titolo sportivo avrebbe avuto dei costi ritenuti esorbitanti ed allora il presidente Luigi Livecchio ha preferito lasciare perdere trovando però subito un'opportunità. Il presidente del Caltagirone, Maurizio Giacquinta, entra in società con il gruppo guidato da Luigi Livecchio e si trasferisce in città. Dovrà mantenere la denominazione di Caltagirone essendo trascorsi termini per eventuali fusioni o cambio di nome. Ora ci sarà da ricostruire un organico, visto che la maggioranza dei calciatori della scorsa stagione hanno trovato altre destinazioni, Nissa e Gela in primis. Il Gela Football Club ha ribadito l'intenzione di continuare la valorizzazione dei giovani talenti del comprensorio. Nessun volo pindarico ma una gestione oculata e programmata dell'investimento affinché il percorso sportivo intrapreso possa durare nel tempo e crescere di pari passo con i ragazzi del settore giovanile, cuore pulsante del Gela Football Club. Grandi manovre in casa Gela dopo la firma del difensore Fabio Campanaro, un vero lusso per la categoria. Nero su bianco anche per l'attaccante Fabio Brasile, classe 1999, Gelese Doc. Il giovane calciatore è cresciuto nel ricco vivaio del Real Gela di Salvatore Spadaro. Il Trapani lo volle nel proprio settore giovanile, successivamente approdato al Palermo. Due anni fa è ritorno a casa in Serie D con il Gela Calcio. La scorsa stagione ha disputato il torneo di eccellenza con la maglia giallonera del città di Scordia Gela Football Club. La categoria ha un'importanza relativa, ha detto Fabio. Ci sono stati i ragazzi gelesi che saranno il cuore pulsante di questa squadra. Spero di dare un contributo importante a questo gruppo che sta nascendo bene.